Un giorno all'improvviso mi innamorai di te su questo striscione, su questa fantastica coreografia della curva con un colpo d'occhio incredibile. Le squadre di Alma Juventus Fano e Maceratese sono scese in campo agli ordini dell'arbitro, signor Daniele Deremigis di Teramo. C'è Cucco che ha spazio, attenzione Cucco, il tiro, Ginestra, Ginestra, il tocco verso Cordova che sventaglia in avanti. C'è Nodari ma c'è il colpo di testa di Daniele Ferrimarini in sottomisura, pericolosa ancora la Maceratese. Sivilla è solo però, prova il tiro Sivilla, viene ribattuto e Fatone ci mette i guantoni, la palla sarebbe comunque uscita. Cucco allontana di testa, Clemente fa altrettanto verso Davide Borrelli che mette nel mezzo, esce Fatone. Lodardini verso Gucci, esce, attenzione, Sivilla, 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 c'è attenzione, salva, incredibile, incredibile salvataggio. Lorusso col sinistro, Gucci di testa, Gucci, Gucci! Attenzione, Cucco verso D'Antoni in aria, D'Antoni con il calcio di rigore per la Maceratese. Cucco contro Ginestra, parte Cucco, il tiro, la parata, la parata, la parata, Paolo Ginestra! Lollo fatica, tocca verso Marconi, l'anticipo, ma ora la Maceratese gioca meglio, Lunardini intanto va giù, Lunardini è già munito, Lunardini è già munito e viene cacciato. Borrelli, il tiro di Borrelli, Borrelli, il miracolo di Fatone! Attenzione, c'è il tocco, rigore, ancora rigore, incredibile! Il direttore di gara vede un altro tocco di mano, calcio di rigore, parte D'Antoni, D'Antoni, il tiro alto! Alto! Ancora Clemente, c'è il fischio però della direttore di gara, finisce così. Finisce a 0-0, una grande alma che lotta alla pari contro la Maceratese.